Un anno tra furti, rapine, truffe informatiche ma anche ferrati omicidi. 12 mesi fatti di controlli migliaia quelli effettuati su persone, veicoli e documenti. Oltre 70.000 invece le richieste di intervento ricevute negli ultimi 365 giorni. È il bilancio 2016 delle attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. 12 mesi raccontati attraverso numeri e cifre dei tra quali emerge l'impegno nella lotta alla criminalità portata avanti quotidianamente dai militari dell'arma. Con le operazioni condotte negli ultimi 365 giorni, i carabinieri aretini hanno denunciato all'autorità giudiziaria ben 7.490 delitti per oltre 2.000 dei quali presunti autori sono stati scoperti. Per quanto riguarda i tanto temuti reati predatori sono stati 258 furti dei quali i carabinieri si sono occupati, 228 persone sono state denunciate ed infine 30 sono finite in manette. Tantissimi servizi svolti anche per il controllo del territorio e per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, operazioni che hanno portato all'arresto di 87 persone, alla denuncia di altre 75 e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente. Un totale di 33 chili e 580 grammi di sostanze sono state eliminate dal mercato. Infine nel corso degli ultimi 12 mesi due sono stati fatti di cronaca che in particolar modo verranno ricordati l'omicidio di Katia Dello Marino, delitto per il quale si trova in carcere il 24enne san giustinese Peter Polverini e quello di Dino Gori ucciso con una fucilata al petto dalla moglie Paola Marzena in carcere dalla sera dell'omicidio. Di entrambi i casi si sono occupati militari dell'arma. Grazie a tutti.